siamo precipitati dentro una crisi grandissima mondiale che sanitaria ma che anche sociale ed anche economica e come in tutte le grandi crisi in realtà a differenza di quello che ci vogliono far credere non è che siamo tutti sulla stessa barca esattamente non è che possiamo stringerci tutte accorte come propone qualcuno perché si mantengono le divisioni di classe esattamente perché i padroni reagiscono cercando di proteggere in primo luogo i loro profitti la loro condizione preoccupandosi poco molto poco delle condizioni della stragrande maggioranza della popolazione se siamo in questa situazione difficilissima con una crisi sanitaria col nostro sistema sanitario saltato per aria perché questa è la realtà che non viene raccontata in questi giorni ebbene è colpa delle politiche d'austerità di quelli che l'hanno praticata difesa politici giornalisti industriali naturalmente e le grandi istituzioni liberiste e borghesi dell'europa che hanno portato avanti taglia la spesa pubblica la sanità che oggi esattamente ci fanno ci rendono estremamente debole di fronte a questa terribile pandemia mondiale che colpisce poi in modo particolare in questo momento l'italia oggi ci chiedono di essere tutti uniti tutti insieme proprio perché vogliono nascondere queste responsabilità grandissime che loro hanno avuto e danno ma per nascondere anche un'altra cosa perché sono stati in ritardo in tutte queste settimane a prendere le misure a tempo e ancora adesso non le stanno prendendo tutte quante tutte quelle assolutamente necessarie e poi infine perché in realtà quando dicono torneremo alla normalità eccetera loro vogliono tornare alla normalità intendo i padroni a modo loro cioè avendo sfruttato anche questo terribile periodo in realtà per avanzare ancora di più nell'imposizione delle loro scelte e nelle loro e nei loro progetti che prevedono la continuazione dello sfruttamento delle classi popolari e lavoratrici oggi noi dobbiamo chiedere una serie di cose molto molto semplici ma profonde profondamente alternative non è vero che l'italia è tutta bloccata tutta chiusa in italia si continua a lavorare in tantissimi settori in questo modo si continua a partecipare alla propagazione del del virus e a partire in primo luogo i lavoratori ammassati in trasporti strapieni dentro le fabbriche in cui non possono esistere certe condizioni di sicurezza allora che cosa noi dobbiamo chiedere dobbiamo chiedere in primo luogo un decreto governativo non abbiamo fiduci in questo governo ma è giusto chiedere un decreto governativo che chiuda tutte le produzioni e tutti i servizi essenziali non essenziali questa è la prima cosa da fare assoluta non domani possibilmente oggi perché questo è anche il modo per poter coinvolgere tutte le forze necessarie tutte le energie le risorse necessarie per intervenire per sostenere quei settori a partire da quello sanitario che invece devono rimanere evidentemente o operativi e la seconda cosa che va chiesta è naturalmente il potenziamento di tutti i servizi sanitari ma anche dell'industria sanitaria noi dobbiamo poter dare si deve poter dare a tutta la popolazione naturalmente ai lavoratori alle lavoratrici che lavorano nel settore sanitario tutti gli strumenti tutto il materiale necessario e questo si può fare soltanto in un quadro di rinazionalizzazione completa totale del servizio sanitario messa sotto controllo oggi della delle industrie farmaceutiche in modo da poter garantire effettivamente a tutti gli operatori senatari ma anche alle cittadine e cittadini tutti gli strumenti necessari terza cosa questo presuppone naturalmente che sia posto definitivamente sia cancellato completamente la cosiddetta autonomia differenziata altra cosa ancora bisogna garantire a tutti quelli che sono oggi a tutti quanti lavoratori dipendenti ma anche sicuramente artigiani autonomi una possibilità di reddito e bisogna garantire soprattutto anche i settori più disagiati della popolazione su cui finora nessuno ha detto parola che sono quelli dei lavori più intermittenti possibili che sono i disoccupati che sono naturalmente anche anche i migranti di cui più nessuno parla per non parlare infine ancora della condizione terribilmente difficile dei 60 mila carcerati su cui avrebbe potuto essere data e si doveva dare e si deve dare una risposta molto molto più semplice di quanto sia stato fatto fino a oggi un'ultima cosa un'altra battuta sulle sulle risorse può bastare spendere in debito e si spende troppo poco ancora tra l'altro ci hanno detto fino all'altro giorno che non era possibile fare debiti e invece adesso li fanno in modo straordinario noi diciamo bisogna reperire risorse devono pagare chi non ha mai pagato serve una grande operazione di recupero di risorse da parte dei ricchi delle grandi imprese di tutti coloro che esattamente hanno beneficiato di riduzioni fiscali che hanno fatto enormi profitti che hanno realizzato grandi rendite finanziarie è ore che paghino perché se no diciamo tutta la storia sul tutt'uniti è completamente fasulla e infatti è fasulla perché loro pensano ieri come oggi di difendere i loro benedetti privilegi sperando di superare questa crisi questa crisi va superata nell'unità delle classi lavoratrici e va superata esattamente dicendo noi non ci possiamo permettere questo sistema qui questo sistema è un sistema assolutamente il sistema capitalistico assolutamente insopportabile ha prodotto questi disastri vogliamo una società solidale egualitaria di eguaglianza sociale una solità di rispetto una società in cui effettivamente si realizzano le possibilità di vita di lavoro di un contesto di vita assolutamente positivo per tutte e tutte quanti ma per far questo occorrerà non questo sistema un altro sistema il capitalismo è un costo troppo alto che l'umanità paga non possiamo sopportarlo più occorre un'altra società